Mare mosso e inverno sono le parole chiave per catturare un bel pesce. Dopo aver lanciato qualcosa di grande abbocca la mia esca, ma riesco ad agganciarlo per bene. Ora l'unica difficoltà è quella di riuscire a recuperarlo senza che riesca a rompere il filo sulle rocce, che sono molto taglienti e pericolose. Dopo un bel combattimento e qualche peripezia, alla fine riesco a prenderlo con le mani, sfruttando l'aiuto delle onde. È un bel pesce serra che ha mangiato su un'esca di 21 cm.